Pareggio esterno del Caraffa a Crotone contro il Real Fondo Gesù, un pareggio che lascia un po' la mano in bocca alla squadra di Mister Mirarchi che raccogliendo i tre punti avrebbe potuto avvicinare lo scandale fermato sul pareggio in casa dall'Atletico Maira. Però d'altra parte può essere tranquillo per il fatto di aver raggiunto il pareggio dopo che era stato per due volte in svantaggio. Parte bene la squadra di casa con Mirarchi al 25esimo al primo tempo che segna il gol dell'1-0, poi sul rigore Spadafora rimette le cose in parità al 37esimo. Alla fine del primo tempo un altro rigore, questa volta per i padroni di casa portano sul 2-1 con la realizzazione di De Roberto. Ci vuole un autorete nel secondo tempo per il Caraffa per ottenere questo prezioso punto che lascia tranquilla le cinque punti di stacco dalla capolista scandale in classifica e cerca di mantenere almeno inattaccabile la seconda posizione.